Sulla strada che conduce alla finale di Champions, uno degli obiettivi dichiarati della Sirsus a Perugia per questa stagione, spunta il Berlin Recycling Volleys, squadra tedesca che nello spareggio per l'accesso ai quarti di finale ha battuto i turchi dello Zira a Tancara. Punti di forza il regista Till e l'opposto cieco Sotola. Gara di andata in programma l'8 marzo a Berlino, ritorno il 15 al Palabarton. E proprio il Palabarton sarà palcoscenico nel prossimo appuntamento dei Block Devils, la terza ultima di Superlega, domenica alle 15.30 contro la Top Volley Cisterna. Domenica viene Cisterna qui al Palabarton, sarà una partita da affrontare come abbiamo sempre fatto le ultime. Loro arrivano probabilmente non da una grandissima prestazione contro Monza, però sicuramente vogliono fare punti per entrare nelle prime otto del playoff. In questo momento dovrebbero essere fuori, ma sicuramente daranno battaglia per conquistare punti importanti per la loro classifica. Tante le motivazioni da una parte e dall'altra per i Block Devils, non certo in chiave classifica, ma come test preparatorio all'ormai imminente Final Four di Coppa Italia. Contro i Pontini sarà anche una festa per alcuni tifosi speciali, che in settimana hanno potuto incontrare Leone e compagni, che domenica saranno presenti al Palabarton. È stata sicuramente una bella esperienza, erano un sacco di ragazzi, erano venuti a vedere tutto l'allenamento, alla fine ci sono riusciti anche a fare qualche gioco con loro. Loro erano molto contenti e anche noi, quindi speriamo che vengano domenica tutti insieme e che si divertano insieme a noi anche alla partita.